Nessuno abbia mai sostenuto che chi si vaccina non è contagioso. Non l'ho mai sentito dire da nessuno e giustamente anche... I vaccinati si prendono il virus e lo trasmettono. È una falsità, è una bugia. A divertirsi, a andare al ristorante, a partecipare a spettacoli all'aperto, al chiuso, con la garanzia però di ritrovarsi tra persone che non sono contagiose.